Faccende pericolose Faccende pericolose, e questo è il titolo dello studio presentato da L'ANNIL, l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, uno studio su caratteristiche, evoluzioni e prospettive del mestiere più rischioso del mondo, la casalinga. Che cosa è emerso? È emerso che le casalinge sono più di 7 milioni di persone. Di questi 7 milioni, vi sono 3 milioni di incidenti all'anno nelle mure domestiche, di cui coinvolgono 3 milioni e mezzo di persone. 600 mila si infortunano, la maggior parte degli incidenti riguardano ovviamente le cadute, l'altra parte riguarda le fratture e, altra cosa importante, purtroppo, che la maggior parte non vengono risarcite. Pertanto abbiamo apprezzato lo sforzo fatto nella legge di bilancio, che ha modificato la norma che scadono i 20 anni quest'anno dall'Istituzione dell'assicurazione contro le casalinghe, e questa norma ha portato all'adeguamento dell'età, da 18 a 67, noi speravamo in 70, ha portato al fatto che il primo indennizzo non è dal 27% in su, ma dal 16 in su, nei calcoli che la perda del pollice sinistro sono 25 punti per cento, non veniva indennizzato. L'abbassamento consente ciò. L'altra cosa importante è che per i piccoli incidenti casalinghi vi è un risarcimento, un attanto, un dal 5 al 16% in base al punteggio. Altra cosa importante è che è stata adeguata la tariffa a 24 euro all'anno e sono 2 euro al mese, 2 caffè per sentirsi in caso di un incidente protetto in casa. Altra cosa che noi chiediamo, ovviamente è più difficile, chiediamo che chi lavora fuori, che è la maggior parte delle persone che poi quando tornano a casa, sono mogli, badanti, casalinghe, madri, si occupano delle stesse vicende delle altre casalinghe, non possono assicurarsi se non con un'assicurazione esterna. Noi chiediamo che questo venga portato, ci vorrà più tempo, ma è uno sforzo perché il lavoro della casalinghe è il più rischioso. I dati di qualche anno fa davano 5.000 morti in casa nelle mura domestiche. I dati del vostro studio ci dicono molto di più. Ad essere colpiti dagli infortuni che avvengono tra le mura domestiche sono soprattutto gli anziani e tra loro si concentrano anche quegli incidenti che purtroppo causano anche la morte. Come tutelarli? Sicuramente questo è il dato che emerge, è una tutela per quello che chiedevamo all'alzamento ancora dell'età, ma soprattutto ovviamente bisogna fare un lavoro anche di far conoscere. Quando è stata istituita la polizia nel 2001 erano circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo negli anni a venire. Negli ultimi anni siamo arrivati all'ultimo dato che ho io, che sono circa un milione di casalinghe assicurate e questo non va bene. Pertanto il messaggio è assicuratevi per proteggervi. Speriamo di non usarla perché è quello che noi vogliamo, però c'è un'assicurazione che è stata la prima a essere istituita in Europa che va sicuramente usata e l'ha messa a disposizione l'INAI.